Quando il campione ce l'hai in casa e sei una candidata a sindaco, allora puoi ritenerti fortunata. La casa in questione è Casa Bundu, lei, Antonella, candidata alla poltrona di primo cittadino fiorentino per la sinistra, lui, Leonard, ex campione europeo di Pugilato, volto noto in città. Anche se alla politica preferisce i guantoni, non può fare a meno di stare accanto alla sorella in questo momento. Sì, sicuramente è una sfida anche questa, la mia sorella tira indietro nessuna sfida. In chiave atletica comunque non sfigura di certo neanche lei, la sorella, ne darà riprova correndo, prima ancora che elettoralmente, fisicamente e fuori di metafora, la 100 km del Passatore, la maratona che porta, come ogni anno, i partecipanti da Firenze direttamente a Faenza in Emilia Romagna, passando per l'Appennino. Ciò avverrà tra la vigilia e il giorno delle elezioni. Certo, questa è una sfida, come penso che tutta questa grande sfida della mia candidatura a sindaca di Firenze non possa che finire con una sfida anche fisica, però anche di tanta concentrazione, qualche cosa che fa capire che quando mi impegno a fare qualche cosa la porto avanti fino in fondo. Dunque è un impegno ulteriore anche agli elettori, agli elettori che andranno alle urne domenica.